Mia figlia durante la settimana ci sono dei giorni che finisce alle 12 e avrebbe l'autobus alle 12.20. Però ultimamente c'è e non c'è, sono più le volte che non c'è. Io e mio marito siamo al lavoro e ci crea un grosso disagio questo, lasciando mia figlia in stazione a Bassano a piedi. Da più di un mese la corsa del bus 1043 Bassano-Rubbio delle ore 12.20 non è garantita, lasciando così a terra o ad aspettare al freddo per ore molti utenti, tra cui ragazzi delle scuole. Infatti questa segnalatrice, stanca del disagio che sta vivendo, chiede spiegazioni direttamente all'azienda di trasporti SVT. Mi ha detto che non c'è l'autobus a volte perché mancano gli autisti dotati di green pass. Il trasporto pubblico è sempre più nel caos per via della mancanza di autisti che rimangono sospesi in quanto sprovvisti di green pass. A pagarne le conseguenze è l'utente finale che, come in questo caso, deve fare i salti mortali per accompagnare a scuola il proprio figlio e andarlo a riprendere, nonostante l'abbonamento dell'autobus sia stato ed è regolarmente pagato a scadenza. Purtroppo, quando non riesce a tornare, mio padre, che è anche anziano, poverino, deve partire, mollare tutto, con tra l'altro una mamma disabile a casa e andare a prendere mia figlia. Chiedo che siano garantite gli autobus con gli orari che ci sono scritti nell'orario invernale, insomma negli orari ufficiali, che siano garantite le corse, non che vengano sospese così all'improvviso.